le socie che sono presenti e che si sono sono presenti sia fisicamente in sala sia in remoto questo appuntamento annuale da qualche anno è un appuntamento che abbiamo voluto anche come di riflessione il momento dell'assemblea un momento importante della vita associativa ma l'abbiamo sempre fatto precedere da una tavola rotonda che ci consente di dialogare con gli interlocutori particolarmente attivi e dinamici nel campo della valutazione come in app e proprio in questo momento saluto il direttore di in app l'istituto nazionale di analisi politiche pubbliche con il quale storicamente a iv ha un rapporto di dialogo sebbene a distanza a volte più ravvicinato a volte meno oggi credo che la disponibilità che in app ha avuto di accogliere per questa tavola rotonda sia da noi straordinariamente accolta come un momento importante di una potenziale ritessitura strategica per cui io subito insomma metto metto il carro avanti no mi sto portando avanti col lavoro perché molti dei temi che su cui in app lavora da anni incrociano la riflessione valutativa e quindi noi saremo ben ben contenti e disponibili di incrociare anche i pezzetti di lavoro che facciamo noi quindi do la parola al direttore ringraziandolo ancora grazie scusatemi ero ero stato più puntuale di voi ma non c'avevo un treno che mi aveva creato problemi per cui spero si sia risolto tutti tutti siano in parte comunque stanno arrivando l'importante era che non si facesse abbiamo il abbiamo la la situazione sotto controllo e scusatemi perché oggi le fortunate coincidenze poi non avendo un ologramma che può parlare con i sindacati qualcuno con i sindacati deve parlarci ma non potevo non salutarvi e darvi un benvenuto a casa in casa in app per questa tavola rotonda che quando ci è stata proposta insomma anche perché per pregressi e rapporti e perché no nuove iniziative comuni non potevamo che diciamo accettare con con piacere la condivisione di questa di questa tavola rotonda live molte iniziative che hanno portato poi l'acquisizione anche con diversi diversi attori istituzionali di di comprendere molti aspetti nel del tema che ci vedono oggi qui riuniti quindi per una valutazione del pnr punti di riflessione e proposte e proposte live stesso da un punto di vista che come dice ci confrontiamo prima con la dottoressa per molti una valutazione che potrebbe aiutare potrebbe aiutare tanto per alimentare questo dibattito la il direttivo redatto un documento che poi si presenterà oggi in occasione della tavola della tavola rotonda e si condividerà con i con i soci sono stati scelti per l'occasione anche del del alcuni interlocutori che possano dare un contributo in termini di arricchimento del del confronto per esperienze vissute per ruoli ricoperti e quant'altro è una moderatrice di direttivo razionale della dottoressa poliandi con la quale prima ci stiamo già confrontando anche perché siamo accumulati anche da tanti interessi istituzionali il interverranno la nostra tavola rotonda il presidente tomei il presidente live vittorio alvino della fondazione open policy di presidente forni fondatore gianni bocchieri il coordinatore del luco il pnr restato regioni ed anche consigliere del del nostro istituto alin pennisi il direttore generale della del mestre dell'unità next generation eu florindo olivero segretario nazionale della funzione pubblica cgl e il nostro ricercatore franco del io siamo qui perché l'indomani del pnr live si era posto una domanda che penso non si sia posto solo live penso un po un po tutti ma l'italia è capace perché poi quando facciamo queste in questo minimo di riflessione pensavo live magari l'ha scritto lo dice nel nei suoi incontri e tutta l'italia probabilmente lo pensa ma anche perché adesso non abbiamo più scusanti prima non abbiamo mai soldi non avevamo mai soldi per fare nulla non c'erano risorse finanziarie adesso come dire le scuse sono sono finite ci sono importanti dotazioni finanziarie per cui tocca agire leggevo ieri solo 24 ore che il commissario gentiloni comunque raccogliendo un po di di mori in ambito europeo ha confermato la scadenza del 31 dicembre del 20 26 non non sembra si possa spostare in avanti per cui i ritardi accumulati allunghiamo le giornate facendole diventare di 48 ore o probabilmente si paventa già qualche qualche serio problema oggi si discute sulla seconda tranche importanza ma l'argomento diventa diventa interessante poi noi cerchiamo di ammorbidire il codice degli appalti cercando di però forse ci concentriamo di più sulla definizione di strutture o sulla stipula di contratti in realtà poi c'è il problema della gestione c'è ci arriveremo pure alla gestione del contratto magari impiegando dieci mesi per fare una gara che adesso sarà ridotta cinque ma poi c'è un problema di gestione del dei dei contratti stessi stamattina diciamo con la dottoressa che si trascuro potrebbe essere uno suggerimento utile quello della di aumentare la cultura della valutazione perché proprio partendo dalla valutazione ma la valutazione in itinere probabilmente non quella fotografia fatta su un evento chiuso e quella come dire mette in evidenza un uno stato di fatto sul quale non si può agire in realtà qui facendo della della cultura valutativa un un elemento o un momento di riflessione che mi consente in corso d'opera di di agire può contribuire come ho detto a disseminare occasione di apprendimento istituzionale di accompagnamento sistematico di programmazione strategica basata sull'esperienza che in corso d'opera si si acquisisce anche su 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 evidenze oggettive che ti attenzionano un fenomeno che tu puoi gestire o che puoi rideterminare solo se agisci tempestivamente per cui fatto di intervenire sul miglioramento dei dei procedimenti e sulla valorizzazione delle professionalità non è un punto banale anzi direi dovrebbe essere come dire il l'obiettivo un po condiviso un po un po da parte di tutti tant'è che per quanto riguarda diciamo l'istituto l'istituto si muove nella propria mission a proprio questo quello di valutare politiche pubbliche in un campo magari neanche tanto troppo limitato perché come dire lavoro emigrazione in questione sociale insomma i campi che ci interessano sono tanti variegati e anche l'istituto si sta confrontando adesso su queste tematiche per rispondere in collaborazione che risponde per dare una mano diciamo così guarda dottoressa grimaldi sul sul l'avviso pubblico 120 22 previsto dalla missione 5 del pnr inclusione e coesione dove anche noi ci daremo una una mano per per analizzare il fenomeno del finanziamento degli interventi realizzati a sostegno delle persone vulnerabili o per la definizione di percorsi di autonomia per persone con disabilità quindi anche noi da questo punto di vista mettiamo a disposizione la nostra la nostra expertise ed occasioni come queste non sono altro che momenti in cui diversi attori ognuno diciamo per la propria esperienza mettano a disposizione strumenti metodologie impostazioni e quant'altro per cercare di di non non bruciare un'occasione avremo a cose fatte speriamo di ritrovarci qui a parlare di tanti obiettivi raggiunti e raggiunti per tempo in modo tale da poter sfruttare questa grande occasione che penso sia difficile possa riverificarsi prossimamente comunque una situazione eccezionale grazie e buon lavoro grazie davvero delle delle sue parole direttore e anche diciamo del contributo diciamo anche strategico che in qualche modo ha individuato tanto per inap con le attività che sta svolgendo e anche un po per iv perché questo ruolo diciamo di supporto costante o di memento in qualche modo della cultura valutativa è un compito che ci spetta e che quindi abbiamo cercato di occupare ovviamente nei limiti di quanto può fare un'associazione come la nostra però fortunatamente in accordo con tanti enti e questa tavola rotonda che adesso la collega pole andrea introdurre rappresenta un pochino questa rete di interlocuzione che probabilmente appunto ci aiuta nel tempo a fare eco di questi di questi messaggi grazie ancora e alla prossima collaborazione la prossima tappa allora questo punto direi che possiamo iniziare abbiamo quasi 30 persone connesse quindi questa è una buona notizia riusciamo con le vie telematiche visto che quelle ferroviarie sono state un po sfortunate in quest'occasione allora siamo qui di nuovo a parlare di brr di valutazione in realtà invalsi sì scusatemi live ne sta parlando da parecchio tempo siamo particolarmente tempestivi al mio avviso in considerazione che proprio proprio oggi la camera anzi no il sì la camera ha dato ieri 19 aprile il voto di fiducia al governo di conseguenza oggi diciamo è stata delineata la nuova governance del pnrr quindi diciamo su questo dovremo iniziare a leggere insomma abbiamo già iniziato a leggere e effettivamente come dire darà un via libera a un provvedimento che fondamentalmente centralizzerà o proverà a centralizzare maggiormente la gestione appunto della della governance il pnr presso la presidenza del consiglio con l'obiettivo di migliorare complessivamente la realizzazione degli interventi previsti fino al 2000 al 2026 e quindi non pregiudicare questi finanziamenti che insomma non dimentichiamo sono più di 190 miliardi non riesco neanche quasi a pronunciarlo il decreto prevede anche delle misure di semplificazione e prevede una cosa interessante che chiaramente non siamo riusciti ad inserire nel documento che il direttivo propone come dire in via di rettifica di revisione di riflessione a questa assemblea ma anche ai nostri interlocutori cioè il fatto che come dire viene in qualche modo sancito mi pare ma sono contenta che ci sono altri come dire esperti edotti che mi potranno diciamo consigliare o comunque mi faranno capire meglio diciamo una sorta di vasi comunicanti il principio dei vasi comunicanti con i fondi della coesione leggendo mi sembra di capire ma insomma l'ha intuito anche il corsera quindi mi immagino che di aver compreso che in qualche modo quanto riteniamo non sarà possibile fare entro il 2026 cioè la conclusione del pnr sarà possibile in qualche modo come dire ratificarlo comunque proseguirlo all'interno dei fondi appunto di coesione che invece hanno diciamo conclusione il 2029 questo introduce una nuova interessante o un cortocircuito rispetto lo leggo proprio perché il corsera stamattina proprio diceva diceva questo cercato poi questo nei meandri diciamo del però è interessante perché introduce un elemento di attualità non indifferente cioè la delega per il piano quindi logica che prevede lo spostamento dei progetti che sicuramente non riusciranno a realizzarsi entro il 2026 sui fondi di coesione che prevedono invece tempi di realizzazione più lunghi fino al 2029 questo è quello che viene dichiarato come abbiamo scritto nel nostro documento il tema appunto la narrazione della gestione dei fondi complessivamente dei fondi europei è un tema che la nostra associazione ha spesso affrontato cioè c'è proprio un tema di governance complessivo di costruzione no in questo in questi ultimi mesi abbiamo letto mentre attendevamo via libera della dell'ultima tranche in qualche modo che sotto lo specchio erano i comuni cioè la capacità tecnica di scrittura di una relazione tecnica che prendesse o potesse dare l'avvio alla scrittura di un capitolato il quale a sua volta in qualche modo potesse essere messo a bando in modo coerente questa incapacità questa mancanza di capacità da parte delle amministrazioni che comunque ha investito i comuni questa volta ma in precedenza ha investito i ministeri nella propria capacità di progettazione comunque è stata l'attenzione di moltissimi di moltissimi di moltissimi giornali chiaramente ha riportato il tema che abbiamo appunto anche declinato all'interno del nostro documento di quanto sia importante appunto la costruzione di capacità presso le amministrazioni e di come comunque sia i fondi di coesione sia il PNR prevedono fondi specifici per l'accrescimento della capacità amministrativa che però molti come dire osservatori dalle colonne dei giornali sostengono non essere mai stati diciamo ancora investiti è vero che all'interno di questo decreto comunque sono presenti dei bandi specifici anche proprio per l'attribuzione di figure tecniche all'interno di queste diverse strutture non sono tempi che vedono immediati in qualche modo sono pronta per essere smentita vedo alcuni i nostri due però questo dicevano appunto stamattina proprio ieri ieri sera le colonne le colonne dei giornali quindi siamo in piena attualità su questo termine quello che comunque ancora mi sembra mancare ci sembra mancare è tutta la tematica invece della valutazione cioè lo sguardo valutativo comunque anche in questa occasione di riscrittura della governance complessiva pare essere manchevole quindi come dire noi auspicavamo un cambiamento della governance forse abbiamo anche auspicato già in passato nei nostri precedenti incontri che sono stati molti di riflessione la necessità invece che ci fosse un luogo maggiormente centralizzato non che questo non presupponesse anche poi uno sguardo valutativo decentrato ma che permettesse invece in termini di governance una gestione complessiva riflessiva appunto su tutto il piano quindi questo in realtà diciamo questa proposta di governo sembra in qualche modo potenziare ulteriormente quest'azione però di fatto non utilizza questa opportunità no che abbiamo di rimodulare di ripensare che comunque l'italia si è potuta dare a differenza invece di altri paesi anche su questo mi piacerebbe sapere se i nostri interlocutori hanno magari appunto informazioni più dettagliate però ad esempio la francia o la spagna che invece hanno sia come dire pensato di costruire la spagna per esempio ha avviato proprio un processo di istituzionalizzazione di tutta di tutto il processo valutativo diciamo di quello che è il loro pnrr in qualche modo quindi avviando e stanziando soldi e fondi specifici la francia ha fatto di più cioè ha stanziato quasi due milioni di euro per appunto o questo come dire quello che è sulla carta poi è chiaro che io non conosco poi l'esegibilità anche perché c'è una mancanza una carenza di evidenza empirica anche su questi aspetti ancora su come sono stati utilizzati questi fondi però effettivamente sono stati stanziati i fondi da mettere a bando per specifici progetti di ricerca ciascuno dei quali poteva ottenere fino a 100 mila euro quindi comunque c'è stata una riflessione complessiva del fatto che ci fosse necessità di sguardi plurimi su questo su questo piano cosa che nel nostro paese effettivamente a parte l'iniziativa individuale in qualche modo dei ricercatori o di chi si interroga in realtà non è ancora riuscita a mettere a sistema diciamo una conoscenza diffusa anche perché come dire in sala c'è chi lo denuncia da molti anni abbiamo una tematica proprio sulla mancanza cronica di informazioni di dati che diciamo crea problematiche a molti livelli in tutti i sistemi della governance che guardate a nostro avviso non esclude il cittadino non escludono i corpi intermedi che in realtà non possono domandarsi cose come che cosa si fa nel mio quartiere come vivo l'impatto appunto del pnr lo vivo l'ho capito che questi soldi li stiamo utilizzando quindi c'è una mancanza cronica di dati abbiamo appunto il presidente di open police qui con noi che sicuramente interpreterà meglio di me questa mancanza cronica ma avrà letto questo nostro documento e sentirà riecheggiare molte delle cose che abbiamo letto dalle pagine della sua come dire del sito di open police perché AIVE è un po' che si interroga su queste tematiche voglio ricordarlo perché siamo comunque all'assemblea dei soci dell'AIV ed è importante insomma che ripercorriamo il percorso che abbiamo compiuto insieme abbiamo innanzitutto chiamato a raccolta i saperi che appunto costruiscono diciamo consapevolezza sulla valutazione del nostro paese che sono i saperi antropologici sociologici economici attraverso questa tavola rotonda che abbiamo già condotto nel 2021 valutando si impara saperi esperti per la valutazione delle politiche per il lancio del paese e quello è stato il primo momento in cui abbiamo chiamato a raccolta i saperi o coloro che potevano mettere in campo delle consapevolezze per creare conoscenza diffusa l'abbiamo chiamata un'alleanza un'alleanza sia con i saperi del mondo della ricerca che con i saperi esperti che poi abbiamo cercato di aprire invece con chi gestisce come dire per parte pubblica questo piano e interrogarlo e comprendere con lui in quanto testimone privilegiato che cosa si stesse realmente facendo e se riuscivano a fare il tesoro delle poche informazioni di monitoraggio che si riusciva ad ottenere per riorientare e ripianificare l'azione di conseguenza abbiamo appunto scritto insieme ad alcune società prestigiose di scientifiche del nostro paese ricordo la società statistica italiana ma insomma quella antropologica, quella sociologica una lettera aperta al presidente del consiglio dei ministri il governo investa nella valutazione delle politiche di rilancio del paese successivamente abbiamo fatto una call per il ventitresimo congresso nazionale dell'associazione italiana di valutazione chiamandola dalla valutazione per la resilienza attori, pratiche e contesti e lì abbiamo cercato di ricostruire attraverso appunto come dire la chiamata della ricerca ma anche dei valutatori esperti che proprio portassero esperienza di processi che in realtà erano di successo anche e che erano riusciti a mettere a sistema sia le azioni del PNRR seppur in piccolo sia processi di valutazione per comprendere cosa si stava muovendo nel nostro paese e qualche buona pratica anche uscita nell'ambito appunto della coesione, della cooperazione, dell'istruzione successivamente abbiamo provato ad ascoltare diciamo la governance della valutazione ha preso parte a quella tavola rotonda la valutazione del PNRR per il cambiamento delle prassi dell'amministrazione pubblica anche appunto il presidente dell'INAP il professor Fadda abbiamo un po' anche la dottoressa Pennisi era già presente appunto e abbiamo provato proprio in quell'occasione a costruire una cosa che la dottoressa Casavola che vi partecipò chiamò diciamo un'alleanza un'alleanza multiattore, multi metodo cioè un'alleanza proprio di fronte alla mancanza di consapevolezza e di conoscenza diciamo quello che siamo riusciti a fare era la mobilitazione di tutte quelle conoscenze competenze analitiche riflessive che possono concorrere allo sguardo valutativo sulle politiche pubbliche sia al dialogo interistituzionale e auspicava la creazione di occasioni di confronto e riflessioni pubbliche in un'ottica pluridisciplinare instaurando molteplici piani relazionali in grado appunto di chiamare in causa il mondo della ricerca i policy making, le strutture tecniche e valutatori esperti proprio per superare quella mancanza di conoscenza diciamo a sistema dovuta alla mancanza di fatto anche di una valutazione di processo che secondo IVE è molto importante oltre chiaramente a quella dei risultati però anche appunto ce lo dicevamo prima l'avrete letto sicuramente nel nostro documento uno sguardo valutativo decentrato che ci permette anche di orientare nei luoghi dove deve essere orientata l'azione e che diventi anche prassi di apprendimento organizzativo per chi l'agisce e quindi anche in un'ottica di miglioramento complessivo dell'azione della pubblica amministrazione che è emerso come un punto rilevante e fondante proprio per portare avanti nel migliore dei modi possibili questa azione come azione riflessiva della pubblica amministrazione e di cambiamento e in quel momento decidemmo che questa alleanza multiattore e multinetodo potesse permettere di colmare quegli spazi vuoti lasciati dalla mancanza di valutazione in generale nel PNRR cercando di costruire conoscenza e consapevolezze diffuse quindi anche in quell'azione abbiamo provato a costruire un rilancio a chiederci chissà qualcosa la dica molto in sintesi ecco la dica proviamo a capire che cosa possiamo fare e siamo andati avanti con un ulteriore passaggio interrogando le strutture tecniche anche le strutture che diciamo fanno da interfaccia ad esempio interloquendo anche con il dottor Gianni Bocchieri che per l'appunto si occupa del coordinamento del nucleo PNR Stato-Regioni per capire cosa si stava facendo quale fosse il ritorno e devo dire che anche in quell'occasione lui stesso denunciò una mancanza cronica di informazioni o di informazioni che non collimano e in quell'occasione appunto l'obiettivo era quello di comprendere a quel livello quale fosse il possibile nesso che in qualche modo ci permettesse di interloquire fino ad oggi dove invece si ribalta la prospettiva abbiamo provato a costruire questo documento che di fatto è un po' la messa a sistema di quanto abbiamo capito di quanto abbiamo appreso perché quelle sono state tavole rotonde momenti di apprendimento per l'associazione e a mio avviso ma insomma voglio dire credo di poter parlare a nome del direttivo di quanto in realtà non è messo a sistema e conosciuto in modo pubblico e provare a ribaltare a costruire un documento che voleva essere un position paper ecco però forse non ha avuto l'ambizione di costruirsi come tale abbiamo avuto anche diciamo una riflessione su come dovesse essere lo stile di questo documento quanto più comunicativo possibile però per cercare invece di riproporre e di rilanciare perché ancora un po' di tempo c'è in realtà nel momento in cui stavamo redigendo quel documento auspicavamo che proprio perché si stava discutendo di rimessa in bolla diciamo così della governance il PNRR si stava ridiscutendo di quello e quindi auspicavamo in realtà di vedere apparire la parola valutazione per cui diciamo avremmo sperato di intervenire in un dibattito che in qualche modo si fosse aperto in realtà quello spiraglio non lo abbiamo visto almeno io nelle carte insomma analizzando e leggendo diciamo non c'è molto di questa di questa azione riflessiva mentre c'è un rilancio sulla pubblica amministrazione dove noi riteniamo sia come dire il luogo dove la progettazione non senza valutazione debba in qualche modo avere uno slancio e quindi in qualche modo abbiamo provato a stilare cinque punti in realtà sono quattro scusatemi che se non avete avuto modo di leggere vado a leggere perché sono un po' diciamo la nostra azione programmatica rispetto alla quale poi lascerei la parola ai nostri interlocutori che vi andrò brevemente a presentare ma ci teniamo perché a partire da questi vogliamo capire se ce ne sono altri cosa manca cosa non stiamo osservando senza dimenticare che per l'appunto avendo interloquito con tutti questi livelli diciamo dei diversi piani che coinvolgono dei diversi attori che appunto ci coinvolgono in realtà a noi interessa anche comprendere come poi i cittadini i corpi intermedi possono intervenire possono leggere dove possono leggere le schede di progetto di quello che in realtà avviene nel proprio quartiere perché in realtà anche quelli sono valutatori fra l'altro se potessimo ascoltarli in modo più diretto anche testimoni privilegiati anche molto interessati per questioni pratiche anche molto interessati a quello che succede quindi ci chiederemmo come associazione anche come riuscire a coinvolgere direttamente i beneficiari di questi processi per comprendere meglio e vedere anche se siamo in grado di tenere insieme livello periferico e livello centrale ho detto moltissime cose che in realtà sono sintetizzate nel nostro documento vado a leggere questi punti giusto per condividerli per chi non ha avuto ancora modo di leggere questo documento che è solo una bozza per discutere e che inizia con appunto un laconico siamo ancora in tempo per considerare la valutazione uno degli assi portanti del PNRR vi ripeto lo stavamo scrivendo poco prima diciamo di questi passaggi parlamentari e quindi prima del 23 febbraio in qualche modo tuttavia per alimentare e informare un dibattito pubblico sul PNRR sarebbe importante tenere conto che una programmazione attenta dovrebbe contemperare una valutazione sia di processo sia di impatto degli interventi elaborati prevedendo anche dei percorsi di partecipazione dei beneficiari delle azioni previste in tal modo si potrebbe favorire con maggiore efficacia un più ampio grado di coerenza tra i bisogni dei beneficiari e gli obiettivi dei decisori nonché porre tutta l'attuazione del programma in una prospettiva di controllo strategico per orientare l'azione nel suo farsi solo mobilitando i saperi le tecniche le pratiche in modo plurale multidisciplinare sarà possibile promuovere una valutazione che sappia non solo valutare se e quanto un determinato obiettivo sia stato raggiunto ma che interpreti i processi tenendo in equilibrio molti aspetti rilevanti per i cittadini e le cittadine quali ad esempio quelli etici di genere ma anche relativi al complesso rapporto fra il centro e la periferia del sistema auspicando che gli effetti degli interventi previsti del PNRR possano stimolare direttamente o indirettamente dei cambiamenti nel comportamento strategico di alcuni attori chiave è dunque rilevante interpretare la valutazione come una strategia locale di attivazione e orientamento in grado di sopravvivere nel tempo al piano stesso è cruciale un investimento sui dati rendendoli accessibili e cercando soluzioni pratiche per integrare tipologie di informazioni molto diverse fra di loro e provenienti da più fonti l'obiettivo da una parte è quello di avere informazioni granulare sulle implementazioni degli interventi dall'altro predisporre basi dati longitudinali per ricostruire la storia dei beneficiari e chiaramente degli interventi è necessario coinvolgere le amministrazioni titolari in mondo della ricerca e i saperi esperti in campo valutativo la pratica valutativa e l'uso che dei suoi esiti si può fare possono rappresentare un elemento dirompente per il cambiamento nella pubblica amministrazione entrando a pieno titolo nel processo di gestione e attuazione del piano al contempo la pubblica amministrazione rappresenta un elemento chiave per la costruzione di una visione strategica del PNRR e se opportunamente governato dell'intero complesso degli interventi il mondo della ricerca insieme con i saperi esperti dei valutatori professionisti assicura d'altro canto la qualità e il rigore metodologico della valutazione inoltre rappresenta lo stimolo a una continua trasparenza dei processi assumendo una posizione critica e riflessiva ecco questo diciamo un po' un punto programmatico molto sintetico che speriamo appunto venga criticato valorizzato dai nostri interlocutori e chiaramente poi anche dai nostri soci insomma da chi è presente in sala oggi allora discutiamo con vado velocemente alla presentazione Vittorio Alvino Fondazione Open Police Presidente Fondatore Gianni Bocchieri che arriverà alle 11.45 per impegni istituzionali che è la presidenza del Consiglio dei Ministri coordinatore nucleo PNR Stato-Regioni vado in rigoroso ordine alfabetico Franco De Rio dell'INAP ricercatore Florindo Oliverio Funzione pubblica CGL segretario nazionale Alim Pennisi che è già stato anche nostro ospite Ministero dell'Economia e delle Finanze direttore generale unità di missione appunto Next Generation Europe e con Gabriele Tomei Università di Pisa Presidente AIV funzionerà così chiamerei ciascun relatore a diciamo presentare brevemente come ci eravamo accordati il proprio punto di vista sul nostro documento a partire dalla propria esperienza da ciò che sa dal ruolo che ricopre offrendoci diciamo delle indicazioni facendoci anche delle critiche alla fine di questo primo giro chiederei a Gabriele di fare una prima sintesi provarci quanto meno di quanto emerso dopodiché un secondo giro più libero siccome non abbiamo previsto delle presentazioni ci possono essere sia nuovi interventi da parte dei nostri interlocutori sia interventi da parte del pubblico chiederei anche da chi è a casa che in questo momento sono più di 35 persone volendo anche di intervenire o di mandare intanto in chat qualche messaggio e poi vediamo come fare questa cosa diciamo a distanza in presenza e di andare avanti insomma e di portare a casa questo lavoro in modo il più collegiale possibile con un appuntamento successivo al prossimo congresso del live per chiudere e presentare un documento nella speranza di renderlo il più comunicativo possibile e ampliarlo a tutti i soggetti interlocutori che vorranno farlo proprio sempre se siamo ancora in tempo quindi intanto io inviterei appunto il dottor Vittorio Alvino a venire qua con noi sì io vi dico vi avevo proposto 6-7 minuti al massimo quindi sarò abbastanza diciamo sì può venire qua grazie mille grazie tanto un applauso grazie grazie dell'invito sì mi sentite bene grazie per l'invito grazie ai presenti e grazie per per l'iniziativa che insomma è tempestiva ma direi che di questi tempi insomma più ce ne sono meglio è e allora il mio contributo riguarda chiaramente l'esperienza di Open Police e non posso che apprezzare l'accento continuo sulla centralità della questione dei dati perché è quello che un po' ci contraddistingue sia come storia sia proprio come contributo specifico sulla nell'esperienza del PNRR questione centrale e che dal nostro punto di vista è una questione da fastidio non so se così forse è meglio ok no è che il microfono dicevo questione centrale perché è è la precondizione è la precondizione anche per non soltanto consentire l'informazione su quello che avviene ma anche per chiaramente svolgere delle attività di valutazione una precondizione che purtroppo ha quasi due anni dall'avvio del processo ancora non non è compiuta e questo è il tema e il tema non soltanto per chi si occupa e si preoccupa dei dati è il tema politico fondamentale perché evidentemente un processo così complesso che in fase di avanzata attuazione che dovrebbe essere tale che non riesce a produrre delle informazioni complete compiute e affidabili su questo processo è un qualcosa che non riguarda soltanto gli osservatori interessati interni ma riguarda il processo stesso e la sua affidabilità la sua tenuta e il suo governo e su questo abbiamo insistito dall'inizio e oltre questo evidentemente è come dicevo la condizione perché soggetti esterni osservatori esterni società civile mondo dell'informazione in generale dell'associazionismo possano poi svolgere il proprio il proprio ruolo che è quello a cui noi ci siamo dedicati e su questo devo dire apprezziamo abbiamo apprezzato anche l'accento sulla sulla cultura dei dati che è una questione che riguarda sia l'amministrazione sia le parti politiche ma riguarda anche molto il mondo dell'associazionismo del terzo settore e all'interno di questo mondo noi stiamo portando avanti questa questa battaglia e con nella vicenda del PNRR siamo riusciti a a produrre quello che secondo noi appunto è un po' una chiave di volta cioè siamo riusciti a realizzare un progetto che si chiama Open PNRR che è una piattaforma che mette a disposizione i dati che riusciamo a raccogliere e che soprattutto è basata su un sistema informativo autonomo autonomo nel senso che chiaramente è un sistema informativo basato su dati ufficiali e su dati istituzionali ma abbiamo sempre insistito sul fatto che disporre di un proprio sistema di informazione è una condizione essenziale per poi poter avere un'osservazione indipendente e questo si è dimostrato una scelta decisiva perché in tutti questi mesi in un processo in cui le informazioni sono mancate questa piattaforma questo sistema informativo più le risorse che abbiamo potuto mettere a disposizione per fare osservazione e monitoraggio sono diventate una ponte di informazione non soltanto per noi e per il mondo del terzo settore ma un po' per tutti quanti questo è un punto di osservazione indipendente che ha potuto alimentare una narrativa un racconto a volte anche diverso alternativo rispetto a quello del governo e appunto questo è il tema è il tema che però in termini di valutazione dicevo è una è una questione centrale ma da questo momento in poi nel momento in cui il l'implementazione la realizzazione del piano entra nel vivo e non abbiamo più soltanto riforme e come dire investimenti di alto livello ma questi vanno tradotti in progetti e i progetti sono migliaia e tendenzialmente centinaia di migliaia evidentemente degli sforzi anche generosi di raccolta di informazioni di dati in fonti differenti è uno sforzo che non può più essere portato avanti ecco perché proprio in questo momento forse l'attenzione di tutti quanti deve proprio concentrarsi sulla questione del reperimento dei dati dell'accesso ai dati perché evidentemente se è stato difficile fino a questo punto da questo punto in poi diventa assolutamente impossibile riuscire a tener conto di quello che avviene e torno a dire sia per chi governo dovrebbe governare il processo sia per chi vorrebbe capire che cosa accade e magari anche intervenire c'è una buona notizia nel senso che due giorni fa sono stati rilasciati dati che da tempo chiedevamo che riguardano i progetti che riguardano i bandi e quant'altro ci pare che siano dati ancora parziali purtroppo che riguardino ancora un numero molto ridotto di progetti rispetto a quelli che pensiamo siano stati approvati o che siano comunque in corso e soprattutto in termini di monitoraggio mancano delle informazioni che riguardano appunto lo stato di avanzamento di questi progetti non ci sono informazioni nel senso che non ci sono propri campi che riguardano l'avanzamento procedurale fisico e finanziario e quindi per esempio non si sa a che punto i singoli progetti stanno e non si sa se e quando queste informazioni potranno essere disponibili non intervengo su quelle che sono le ragioni anche perché posso fare soltanto delle supposizioni però torno a dire per noi la questione centrale per chi voglia fare monitoraggio per chi voglia fare per chi voglia in qualche maniera partecipare ai processi oltre che per chi voglia valutarli è assolutamente questa della disponibilità delle informazioni di base un'ultima notazione riguarda come dire il vostro documento sulla sull'importanza della sia della partecipazione ma anche del decentramento dei processi di valutazione che anche per noi è una questione essenziale abbiamo concepito questa piattaforma OpenPNRR come uno strumento che possa facilitare il monitoraggio da parte dei non addetti ai lavori evidentemente quindi organizzazioni della società civile singoli cittadini comunità locali e quant'altro l'obiettivo è quello di mettere a disposizione tutti i dati di fonte ufficiale che possono essere reperiti ma per poi poter esercitare un'attività di monitoraggio e anche di valutazione di valutazione di importanza di rilevanza di impatto di quello che viene fatto da chi viene fatto come viene fatto e con quali risultati ecco questa piattaforma mettendo a disposizione i dati di monitoraggio poi ha l'ambizione di raccogliere anche ulteriori dati informazioni che in maniera distribuita possono essere osservati e valutati anche dalla cittadinanza siamo ancora molto lontani da questo prendiamo questo primo rilascio di dati importanti come appunto un'apertura verso una fase nuova speriamo il nostro sforzo sarà quello di mettere a disposizione questi dati attraverso mappe attraverso strumenti più accessibili rispetto a quelli che sono i dati adesso pubblicati su Italia Domani torno a dire da questo momento in poi la questione del rilascio di dati e di dati che riguardano che debbano riguardare anche il monitoraggio e quindi lo stato effettivo di avanzamento dei progetti è una questione indispensabile senza la quale anche gli sforzi che abbiamo fatto finora rischiano di essere compromessi ed è una questione centrale che riguarda anche chiaramente l'opinione pubblica e l'informazione in genere grazie a voi grazie grazie mille grazie ancora ci vediamo per un pochino adesso allora diciamo in rigoroso ordine alfabetico ci sarebbe il dottor Bocchieri che però vi ho detto che arriverà più tardi quindi inviterei intanto Franco Deriup dell'INAP quindi insomma il tema della diffusione decentramento insomma diciamo settorial esatto quindi lascerei volentieri la parola grazie grazie a voi ovviamente le dimensioni della riflessione mutano a seconda del punto di osservazione e del ruolo come abbiamo come è stato ribadito più volte quindi più che parlare diciamo a nome dell'istituto l'ho spostato perché non volevo che impattasse perché non vorrei disturbare con il microfono quindi naturalmente parlo come istituto nazionale delle analisi per le analisi delle politiche pubbliche ma in questo caso diciamo cercando di dare una sorta di testimonianza di quello che è un processo di implementazione di questo PNRR laddove si parla di politiche che riguardano le persone politiche di inclusione e i loro raccordi potenziali o comunque auspicati all'interno del PNRR questo per in qualche modo restituire un feedback sulle indicazioni che sono state rappresentate dal vostro documento che è assolutamente condivisibile questo perché perché nel nostro caso noi interveniamo per sostenere appunto una progettualità diffusa sul territorio uno stanziamento di un miliardo e quattrocento e passa milioni che si rivolge a interventi su persone fragili nello specifico con interventi appunto per la deistituzionalizzazione degli anziani percorsi di autonomia delle persone con disabilità in qualche modo prefigurando una sinergia con una missione quella 6 sulla salute che parla di case della comunità punti unici di accesso e questo ci ha messo nelle condizioni di preparare sostanzialmente un avvio di questi progetti accompagnare gli ambiti territoriali nel loro sviluppo della progettualità e procedere a una sorta di prima validazione in sede di start-up di questi progetti progetti che hanno dei punti di riferimento importanti ai quali dover dare conto mi spiego e che in qualche modo sono coerenti con un processo di riforma molto articolato nel paese che non sempre avviene usa più o meno lo stesso linguaggio a seconda che si parli di riforme della disabilità una riforma prevista dal PNRR riforma delle politiche per gli anziani non autosufficienti anche questa è una riforma prevista dal PNRR ma i piani nazionali di fondo sociale inclusione giovani donne al lavoro c'è una convergenza su alcune linee interpretative delle quali anche il PNRR forse è stato promotore ma certamente è sollecitato ad essere attuatore e quindi parlo di centralità della persona promozione dell'autonomia vita dignitosa ma anche un potenziamento dei servizi una un concetto di multidimensionalità che finalmente sforza di cercare di mettere insieme le diverse dimensioni nelle quali vive una persona il lavoro la salute il sociale l'istruzione in questo contesto quindi si sono attivati questi progetti o si stanno attivando e la riflessione secondo me per quanto mi riguarda parte dal ma perché delle misure che erano già disponibili penso al dopo di noi ma che languivano inutilizzate malgrado con fondi a disposizione con il PNRR hanno ricevuto una nuova accelerazione sono stati questi progetti hanno in qualche modo ricevuto riscontri da una dimensione molto territoriale stiamo parlando degli ambiti territoriali del sociale quindi una dimensione che come è stato segnalato anche dal documento del live è diciamo così in difficoltà sul versante delle capacità tecniche di progettualità di governance perché questo è avvenuto allora naturalmente stiamo parlando tra le varie risposte una mi sentirei di fornirla anche a supporto di quello che è la riflessione di oggi cioè c'è qui un collegamento più stretto tra il versante centrale nazionale e quello territoriale cioè tra la capacità come appunto veniva segnalato nel documento questa cinghia di trasmissione tra i bisogni locali e le istanze nazionali in questo caso in termini di sollecitazione il PNRR ha delle carte in più rispetto a una programmazione ordinaria ha delle scadenze molto prossime ha un ventaglio di opzioni e di misure che per una volta sono articolate stiamo parlando per esempio di gruppi appartamento di vita autonoma ma anche percorsi di accompagnamento al lavoro su lavori che prevedono il digitale la tecnologia e quindi sono naturalmente progetti integrati ecco quindi secondo me questo in qualche modo è un elemento che deve indurre a una riflessione sul come ragionare in termini di valutazione sul PNRR perché è vero che da una parte la valutazione in questo caso è apprendimento istituzionale introduce degli elementi di riflessione e anche dei punti di riferimento che poi diventano anche routine programmazione pianificazione soprattutto a livello locale perché l'interlocuzione tra un ambito territoriale e un ministero o un'unità di missione che fornisce degli elementi interpretativi e di indirizzo è un elemento che poi resta nella quotidianità dell'amministrazione locale dall'altra però c'è un versante che è quello nazionale che è sostenuto dalle riforme da grandi finanziamenti del fondo sociale fondi strutturali e quant'altro che mira a una diciamo uniformità del del della qualità dei servizi sul territorio nazionale quindi ha bisogno di dare dei punti di riferimento certi che spesso non combaciano con quelle che sono o le esigenze o le capacità o le esperienze locali quindi questa doppia dimensione della dell'osservazione di queste del PNRR della moltitudine di progetti di cui stiamo parlando ovviamente rende necessario questo questo doppio punto di osservazione necessariamente se si vuole in qualche modo far sì che nel processo di valutazione di osservazione in itinere il direttore prima sottolineava che una valutazione del processo in corso consente di indirizzare o di produrre interventi correttivi o migliorativi o di diciamo di categorizzazione delle esperienze perché questo è importante non voglio rubare molto tempo infatti però ecco quindi questa doppia dimensione è fondamentale le sedi istituzionali dove poter immaginare che questo dialogo e questa riflessione venga in qualche modo promossa e sollecitata ci sono è l'attenzione che bisogna dedicare alla questa è un'operazione che non può essere solo presentata pubblicata in gazzetta e amen deve essere coltivata deve essere accompagnata giorno per giorno deve fornire degli strumenti di interpretazione che sono quotidiani quindi io credo che le sedici siano serve questo lavoro forse un po' artigiano ma strutturato che che metta e garantisca una capacità di risposta sia per il versante nazionale che per il versante locale grazie grazie invito Florindo Oliverio della funzione pubblica CGL segretario nazionale ringrazio molto per gli spunti di riflessione appunto sempre sul tenere insieme stanze centrali con bisogni locali e quanto questo poi si esprima nel concreto nella progettazione in quanto questo link come dire che ha rivitalizzato questa possibilità di mettere a sistema un'azione piccola come molto interessante quella dell'esperienza dell'appartamento con invece comunque devo dialogare con il nucleo del centro per portarmi a casa questa cosa molto interessante grazie quindi invito appunto il dottor Sì grazie intanto per l'invito buongiorno a tutti ma ovviamente è sicuramente giusto porre l'accento su come il piano nazionale di ripresa e resilienza riesca a raggiungere a traguardare l'obiettivo per cui anche nasce cioè quello di portare il nostro paese a una condizione diversa da quella che ha conosciuto nel momento di due crisi fondamentali la crisi economica del 2007 2009 non superata e immediatamente dopo riversati nella crisi provocata dalla pandemia del 2020 2022 queste due crisi hanno messo in evidenza una inadeguatezza del sistema paese sia relativamente alle sue strutture istituzionali sia relativamente al suo tessuto alle sue strutture economiche produttive il piano nazionale ripresa resilienza quindi ha l'obiettivo di provare partendo da quello che è stato messo in evidenza da queste due crisi profonde pesanti che hanno investito il nostro paese per cercare di migliorare la capacità del paese stesso di fare fronte a situazioni anche emergenziali ma dotandosi di una capacità che voi chiamate nel vostro documento per una prima parte un primo segmento di questioni la capacità amministrativa rendere più capace il sistema paese di far fronte nell'ordinario alle situazioni con le quali bisogna che faccia i conti perché certo si è trattato di due situazioni sicuramente eccezionali ma di questi tempi mi avrebbe da dire l'eccezionalità diventa l'ordinario una volta abbiamo l'emergenza per i flussi migratori non controllati e non governabili un'altra volta abbiamo l'emergenza perché il sistema comunque delle imprese riversa sul sistema paese le condizioni di un mercato che è comunque instabile anche frutto della globalizzazione di processi che non sono governabili unicamente all'interno del proprio perimetro insomma e quindi se questo è il tema ed è tutto evidente che il tema della capacità di progettare innanzitutto e poi di valutare quanto la progettazione produca i risultati attesi è sicuramente un tema con cui bisognerebbe fare i conti io penso appunto ovviamente dall'osservatorio tutto parziale che possiamo avere noi che siamo un'organizzazione di rappresentanza del mondo del lavoro penso che in questa vicenda del piano nazionale di presa e resilienza il nostro paese non ha brillato relativamente a capacità di progettazione se per progettazione intendiamo quella capacità di partire da un'analisi condivisa tra tutti i soggetti che in qualche modo sono cointeressati alle sorti del paese e quindi non soltanto il decisore pubblico il decisore politico ma con il coinvolgimento degli stakeholder dei vari soggetti i corpi intermedi a cui facevate riferimento anche nel vostro documento e non solo il sistema anche della burocrazia che comunque è un soggetto nell'ambito della struttura istituzionale che non è assolutamente assimilabile a quello che è il livello di decisione politica perché vorrei che fosse sempre più tenuto in evidenza che una cosa è parlare delle responsabilità dell'autorità politica altra cosa è parlare del funzionamento e quindi di chi ha una competenza una responsabilità tecnica nell'organizzare la risposta in termini di pratica anche di processi di organizzazione dei servizi anche della macchina che deve realizzare i progetti del decisore politico però queste devono essere due funzioni che devono mantenere una loro autonomia altrimenti l'una confligge con l'altra prima o poi e questo per esempio è uno dei temi con cui ho colto e ho apprezzato anche condivido il giudizio espresso di recente anche da Open Police a proposito per esempio del tema del cambio della governance che rischia semmai di rallentare i processi di attuazione del PNRR perché genera ulteriori elementi di incertezza a tutto campo genera incertezza nei confronti della comunità europea che deve decidere se è possibile continuare a dare credito al nostro paese genera incertezza nei confronti dell'opinione pubblica che non capisce se abbiamo capito qual è il punto di meta a cui vogliamo tendere genera incertezza appunto nella burocrazia negli apparati che ovviamente vengono sempre più messi in una condizione come dire di pratica assolutamente di scivolosità della loro capacità anche di intervenire rivendicando anche una funzione in autonomia no? L'intervento sulla governance che viene letto non tanto legata alla capacità di produrre obiettivi ma quanto semmai alla capacità di occupare postazioni di comando all'interno di un processo ovviamente mette a rischio a repentaglio anche la capacità da parte della burocrazia in generale ma più in particolare della dirigenza pubblica del poter intervenire avendo la garanzia di poter agire il proprio ruolo in autonomia e nel rispetto anche delle competenze siamo purtroppo in un paese che dovrebbe migliorare anche nella sua capacità oltre che amministrativa di riconoscersi il merito che ciascuno dovrebbe pensare innanzitutto a fare il suo di mestiere e poi provare a convogliare le proprie competenze su un comune obiettivo ecco dal nostro punto di vista il nostro paese sul PNRR ha messo in evidenza innanzitutto una incapacità di progettazione soprattutto dal punto di vista tecnico ma ancora di più dal punto di vista dell'efficacia di progettazione se per efficaci progettazioni intendiamo anche la possibilità di rendere i progetti un qualcosa di comune che è condiviso nel paese e che quindi passa inevitabilmente da un processo di analisi condivise anche di capacità di progettazione condivisa fermo restante che poi la decisione sta in capo alla politica al governo a chi deve assumere le decisioni ma è cosa ben diversa se però la decisione la prende in solitudine piuttosto che a valle di un processo di coinvolgimento di condivisione di analisi di coinvolgimento anche nel provare a mettere come dire in comune ipotesi di percorsi utili a uscire fuori da una situazione di crisi o di emergenza ecco questo è mancato e vorrei dire che è mancato anche avendo chiesto e ottenuto per esempio dai corpi intermedi parlo per la parte che provo a rappresentare il sindacato ovviamente ha dato un contributo anche nella fase di progettazione con la condivisione del patto per il lavoro pubblico del 10 di marzo del 2021 noi assumemmo degli impegni assieme al governo provare per esempio a stipulare dei contratti collettivi nazionali di lavoro dopo 8, 9, 10 anni di blocco con una forte innovazione sul piano organizzativo penso per esempio al lavoro a distanza al lavoro agile al lavoro da remoto e dall'altro lato una forte innovazione organizzativa anche mettendo mano a una riorganizzazione dei processi di produzione si direbbe di organizzazione dei servizi attraverso i nuovi sistemi di classificazione e ordinamento professionale beh era appunto il tentativo di mettere in condizione il paese di poter affrontare la mole di lavoro anche che avrebbe investito le istituzioni le amministrazioni pubbliche con il piano nazionale di ripresa e resilienza per cercare come dire di produrre appunto e cogliere soprattutto questa formidabile occasione data dal PNRR per produrre innovazione nel rapporto tra cittadini e imprese e il mondo delle amministrazioni pubbliche e questo però non si è tradotto ancora oggi nonostante i contratti che abbiamo fatto figli di quell'accordo appunto con questi due elementi di grande innovazione da un lato l'ordinamento il sistema di classificazione dall'altro l'organizzazione del lavoro anche con modalità diverse flessibilità lavoro a distanza e quant'altro ancora oggi stentano a traguardare come dire applicazioni concrete all'interno delle amministrazioni e questo è un elemento di indebolimento ulteriore di una struttura già indebolita di per sé da 15 anni per esempio di disinvestimento nelle amministrazioni pubbliche noi siamo in una situazione in cui per esempio gli stessi bandi di reclutamento di personale che dovrebbe realizzare gli obiettivi del PNRR non vede diciamo così l'obiettivo di assumere quelle professionalità che sarebbero necessarie per poter fare il PNRR ecco per esempio avere già avuto diciamo così nell'ambito delle amministrazioni pubbliche una valutazione interpretata come strumento ordinario di organizzazione del lavoro finalizzato a produrre cambiamento piuttosto che finalizzato come dire a calmierare la spesa pubblica e oggi ti mette nell'impossibilità per esempio di capire come mai siamo in presenza di un fenomeno del tutto nuovo e inedito che non basta bandire concorsi pubblici per migliaia e migliaia di posti di lavoro perché le persone che cercano di accedere al mondo del lavoro pubblico hanno un'altra concezione del lavoro una concezione diversa che interroga tutti quanti noi interroga soprattutto il decisore pubblico nella fattispecie che fa il bando di concorso per esempio nel capire che non puoi avere un concorso standardizzato indipendentemente dal tipo di professionalità che cerchi di assumere ho finito così come non hai la necessità non hai la necessità come dire di dare altri tipi di strumenti che andavano bene per esempio quando sono stato assunto io alla fine a metà degli anni 80 perché oggi il lavoratore cerca diciamo così altri elementi di gratificazione che non è soltanto lo stipendio è sicuramente anche quello e sappiamo quale difficoltà oggi incontriamo nel rendere attrattivo lavorare nell'amministrazione pubblica quando a parità di qualificazione lavoro nel privato e guadagno di più o comunque nel rapporto con i pari colleghi nel mondo del lavoro pubblico in Europa sono sicuramente sotto pagato ma c'è anche il tema di quale gratificazione professionale come curo il mio lavoro se l'obiettivo che io ho di appunto curare la mia professionalità arrivando in un'amministrazione pubblica viene penalizzato dal fatto che per esempio non c'è una formazione permanente per nessuno e anzi viene mortificata la maggiore professionalità che io metto a disposizione dell'amministrazione pubblica quale trasparenza nei percorsi di carriera ecco questi sono tutti elementi che depotenziano la capacità di come dire rendere attrattiva l'amministrazione pubblica che dovrebbe traguardare gli obiettivi del PNRR io attribuisco un grande valore al documento che ho letto degli AIV ovviamente credo che il documento affronti il tema del progetto e quindi la fase pre e della valutazione della realizzazione degli obiettivi io penso che noi però oggi abbiamo una grande urgenza valutare l'oggi del PNRR perché il tema più grosso che oggi abbiamo davanti tutti è quello che il flop del PNRR rappresenterebbe il portare il nostro paese sull'orlo del baratro perché sappiamo tutti che abbiamo già conosciuto per effetto della crisi economica del 2007-2009 il blocco e il disinvestimento per le politiche di asterite che sono conseguite nell'ambito delle pubbliche amministrazioni se noi buchiamo gli obiettivi del PNRR significherebbe avere questo paese oramai votata diciamo così al collasso definitivo per fare questo ovviamente occorrerebbe che anziché pensare alle governance proveremmo a coinvolgere più e meglio di quanto non avessimo fatto nella progettazione grazie 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 molto diciamo per la legge del contrapasso adesso ho visto entrare il dottor Gianni Bocchieri della presidenza del consiglio dei ministri che inviterei appunto quindi abbiamo diciamo ripercorso la tematica della costruzione appunto del progetto quindi la mancanza di condivisione l'importanza della partecipazione e ci sono anche interessante questa lettura della governance diciamo come elemento addirittura diciamo di complessità ulteriore che pone quindi abbiamo appunto visto che siamo andati a come dire al voto sulla nuova governance PNRR sicuramente ci potrà dare anche ci potrà dare anche qualche illuminazione del tu perché è stato il mio direttore ad Invalsi quindi diciamo lo conosco nonché membro del consiglio di amministrazione anche di INAP quindi diciamo che sei di casa ecco quindi quindi ti lascerei volentieri la parola grazie grazie a te io mi scuso sono arrivato appunto nel udendo l'ultima relazione e non ho capito la premessa nel senso quale sarebbe il contrappasso cioè nel senso che io ho sentito cose che francamente mi sento di 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 condividere molto anzi in genere passo io per essere il un po' provocatore negli interventi quindi devo dire che questa funzione l'ho sentita assolvere abbastanza quindi non riprendo cioè mi trovo molto in in quanto ho sentito è il dottor Gianni Bocchieri coordinatore del nucleo PNRR è stato Regioni presso la presidenza dei consigli ministri spiego che cos'è il nucleo che coordino proprio perché un po' si inserisce nel ragionamento che ho sentito poi avendo letto il documento spero di aver compreso bene il contesto questo nucleo nasce con il secondo decreto governance del PNRR quindi per intenderci il decreto legge 152 del 2021 convertito poi a fine anno gli ultimi giorni dell'anno e nasce presso il dipartimento degli affari regionali autonomie della presidenza del consiglio quindi per intenderci ministero senza portafogli degli affari regionali e autonomie in ragione del fatto che il ministro protempore di allora aveva raccolto la lamentazio delle regioni devo dire che io venivo dal contesto regionale perché nei nove anni precedenti ero dirigente di regione Lombardia e quindi avevo partecipato ai primi incontri dell'agosto 2020 eravamo ancora in periodo covid quindi insomma per certi aspetti conoscevo già cioè vivevo dall'altra parte della barricata qual era l'atteggiamento il sentimento degli enti territoriali di programmazione come la regione quindi non di esecuzione come comuni e province e devo dire che insomma ho trovato l'iniziativa di costituire questo soggetto questo interstizio di facilitatore tra regioni e livello centrale utile per cui devo subito dire che appunto questo nucleo è diverso dalle strutture di missioni da tutte quelle sovrastrutture che le amministrazioni titolari di investimento hanno avuto la possibilità di costruire perché di fatto io con il nucleo non gestiamo una componente di una missione un investimento di una componente di una missione ne gestiamo solo una che era di competenze del dipartimento che si chiama green community ma che faceva parte in teoria di politiche territoriali in pratica scaturiva da un'altra direzione però la scelta è stata vista che dovrai più o meno avere a che fare con soggetti che attuano il PNRR cosa c'è di meglio che l'esperienza diretta quindi gestisci la linea di investimento green community e così puoi capire quali sono le problematiche poi pratiche che devono affrontare gli altri enti quindi il nucleo diciamo che in parte struttura di missione come le altre e per magna parte invece come prerogative previste dall'articolo che lo istituisce invece dovrebbe fare appunto da facilitatore assistenza tecnica anche se detta impropriamente raccogliere dati fare monitoraggi insomma compiti abbastanza eterei ed anche eterogenei per certi aspetti quindi molto dipende poi dalla capacità di interpretare o dalla modalità meglio dire di interpretare il ruolo che viene dato al nucleo questo questo excursus mi consente appunto di dire che effettivamente c'è c'è stata una costruzione del PNRR di un certo tipo quindi per certi aspetti appunto rifletto quanto è stato detto prima anche sull'incapacità di programmazione cioè nel senso nella misura in cui viene costruito un piano con con i tempi con cui è stato costruito e anche con l'evoluzione dentro l'evoluzione politica di quei tempi io prendo in prestito delle parole che non sono state dette pubblicamente se non in contesto di cabina di regia quindi chiaramente eravamo talmente tanti che nessuno può dire che sono stato io a dirlo quindi negherò che sono stato sempre che sono stato io a dirlo tanto non ci vede nessuno siamo in streaming quindi non ci vede nessuno però ecco nella prima cabina di regia del nuovo governo il ministro Giorgetti ha detto con il suo modo molto diretto molto efficace non dimentichiamoci che in alcuni casi si vede che il PNRR è stato costruito con il classico svuota cassetti ecco quindi appunto in quanto vero devo dire che in effetti il puzzle incomincia a comporsi cioè noi siamo stati e devo dire che avendo avuto anche il file excel del del conte 2 quando si stava iniziando a comporre il piano la sensazione dello svuota cassetti era evidente io sono stato al ministero dell'istruzione per tre anni in diretta collaborazione del ministro 2008-2011 prima di diventare collega della dottoressa Poliandri e effettivamente quando ho visto le linee dell'excel relative al ministero dell'istruzione ho detto questo lo conosco questo lo conosco questo cioè quindi è considerata che era erano passati dieci anni nel frattempo quindi oggettivamente in alcuni campi in alcuni ambiti non è soltanto mancata la condivisione ma è stata proprio fatta compilata la scheda le schede in un certo modo quindi è chiaro che se si usa questo metodo di collezionare progetti che non erano stati realizzati fino ad un certo momento si mette assieme non si coinvolgono per mancanza magari anche di tempi gli enti territoriali in un certo modo è chiaro che tutto va è un po' la classica insalata della maionese stavo pensando all'insalata russa ma questo è un calo degli zuccheri la maionese impazzita per cui alla fine il problema si pone devo dire che le regioni hanno accentuato questo atteggiamento hanno anche usato l'alibi perché come al solito in questo paese riusciamo sempre a fare i derby anche fuori dalla coppa campioni quindi ci piace dire a noi regioni siamo distrattati a dispetto dei comuni a noi non vengono attribuite risorse a dispetto degli enti territoriali però agli amici delle regioni ho sempre detto che le funzioni sono diverse appunto un ente di programmazione è un conto è l'ente che realizza un altro conto quindi non si può fare il misurino di quanto contano le regioni perché hanno x risorse rispetto a quanto contano i comuni perché hanno 10 volte x le risorse perché sono due soggetti diversi ciò non toglie che appunto una governance partecipata coordinata fosse necessario sia necessario anche con le regioni perché in quanto enti di programmazione oggettivamente io se fossi stato in un altro in un altro ruolo le avrei coinvolte ma le avrei coinvolte per un senso per un dato pratico ed è dato dal fatto che noi siamo in un momento di defluenza o confluenza meglio parlare di defluenza perché siamo alla fine della programmazione 14-20 siamo all'inizio della programmazione 21-27 con residui di cui c'è evidenza documentale e in mezzo c'è il PNRR allora è chiaro che quando non avrei mai pensato di occuparmi di PNRR dall'altra parte e in regione Lombardia ero direttore generale dell'assessorato istruzione università ricerca innovazione cosa ho fatto ho preso le linee del FESR e delle FSE regionali ho iniziato a fare le tabelle di confluenza di raccordo con le linee del PNRR e ho iniziato a dire giochiamo in complementarietà c'è basi comunicanti dove ho investito prima e investo il PNRR non investo più nel 21-27 ma non è scienza o fantascienza è semplicemente buon comportamento che farei a casa mia se c'è qualcuno che mi dà qualcosa le mie risorse le impiego altrove quindi è chiaro che è mancato dal mio punto di vista questo aspetto e secondo me questo aspetto andrebbe considerato la capacità di programmazione sì manca anche questa ma qui siamo proprio al paradosso poi perché manca la capacità di programmazione e ne stiamo avendo più evidenza con il PNRR però diciamoci anche la verità non è che il giorno prima eravamo superman e poi il giorno dopo ci hanno messo la criptonite nel letto perché sulla capacità di programmazione dobbiamo essere sinceri tutte le amministrazioni hanno sempre fatto ricorso alla classica assistenza tecnica esterna che è una l'indice della propria debolezza perché appunto se la pubblica amministrazione non diventa attrattiva non è attrattiva non riesce ad essere attrattiva ma non soltanto dal punto di vista economico quindi positivo ma anche negativo perché se io vado a lavorare nella pubblica amministrazione qualcosa rischio che mi capiti e capita poi ma perché dovrei stare qui nella pubblica cioè qual è il compito perché dovrei essere tanto no il perverso mi verrebbe da dire ma poi dovrei prima di tutto interrogare me stesso e quindi la capacità di programmazione non è mancata da un giorno all'altro paradossale però è il fatto che le strutture di missioni per molti aspetti si sono popolati da collaboratori dipendenti colleghi non so come definirli che il giorno prima erano i dipendenti delle società di assistenza tecnica cioè noi stiamo gestendo internalizzando ciò che prima era esternalizzato allora questo in uno scenario in cui dobbiamo prenderne atto i concorsi pubblici non attraggono più come prima ma non soltanto a livello di a certi livelli non attraggono più per una serie di motivi quanti concorsi sono rimasti in evasi quindi da questo punto di vista noi dobbiamo considerare che il mercato del lavoro è un mercato in cui non c'è più il mio figlio non ci pensa nemmeno di andare nella pubblica amministrazione cioè non distingue che cosa è pubblica amministrazione lui deve entrare nel mercato del lavoro ma non è preordinato come lo era la mia generazione quando eravamo abituati a segmentazioni chiare rigide no facili per certi aspetti prima facevo la scuola dell'obbligo che era la terza media l'apprendistato partivo militare tornavo dal militare con chi avevo fatto l'apprendistato mi assumeva a tempo indeterminato e mi sposavo poi se ero anche in un'azienda di un certo tipo facevo la staffetta generazionale quel mondo lì è sparito è scomparso non devo stare qui a citare la great resignation degli Stati Uniti ma è un dato di fatto c'è le vacanze esistono e quindi esistono anche nella pubblica amministrazione non c'è più la logica per cui come una volta in un'area del paese si aspirava a fare il concorso pubblico e poi si era disposti a trasferirsi per poi tornare indietro perché nel frattempo per trasferirsi e tornare indietro gli affitti da pagare in certe zone del paese ti assorbono l'ottanta per cento dello stipendio e quindi questo è il dato che io farei che io prenderei in considerazione quindi è risolvibile questo problema nell'immediato io credo di no non è risolvibile ma tra l'altro non è risolvibile ordinariamente e qui arriva un altro punto cioè adesso facendo quattro conti a spanne mettendo assieme alcuni e alcuni commentatori l'hanno fatto meglio di me noi abbiamo avuto un trend storico di capacità di rendicontazione di rendicontazione perché non impegno perché a fare impegno ci vuole poco l'abbiamo dimostrato finora cioè prima raggiungevamo gli obiettivi le milestone in un modo molto semplice che ci voleva fare un decreto e impegno ci vuole poco ma rendicontare è un'altra storia bene noi avevamo mediamente se i dati non li ho letti male circa 5 miliardi di capacità di rendicontazione l'anno se sommiamo le programmazioni che ho citato dovremmo passare a 50 miliardi l'anno che qualcuno glielo dica cioè non ci vuole nostra damus cioè non ci voleva nemmeno due anni fa cioè è chiaro ce la faremo domanda retorica e vado oltre perché l'altro tema prima questa è tutta la premessa ma alla fine è una frase sola cioè andiamo oltre il tema della revisione del PNRR perché quanto tempo abbiamo visto quante giornate abbiamo passato per sulla sacralità l'intoccabilità del PNRR per cui se qualcuno lo toccava era di un certo risma di una certa e che invece chi non lo toccava era perché ecco adesso se noi anche da questo punto di vista ripercorriamo il a ritroso ma se il PNRR si è generato in un certo modo se abbiamo un certo tipo di incapacità se premesso e lo dice oggi Fubini sul Corriere della Sera che io sono d'accordo con il fatto che non si può rinunciare a un prestito sebbene ancorché prestito nella misura in cui Fubini oggi ha dimostrato quanto sia conveniente quindi non sto dicendo che non sto proponendo posizioni del tipo piuttosto lasciamo no però ecco qualche riflessione la farei perché e qui veniamo al tema della valutazione per chiudere perché mi pare che i tempi fossero assegnati in modo chiaro vero manca la valutazione però c'è qualcosa sul nuovo PNR3 poi sulla valutazione tu sai come io la pensi la valutazione dovrebbe accompagnare sempre in ogni fase quando sono arrivato nella pubblica amministrazione c'era la dottoressa Maria Grazia Nardiello la cito perché devo citarla che mi ha detto vieni qua lezione numero uno valutazione di impatto preventiva ogni volta che fai una norma ricordati di pensare a chi è destinata quindi la valutazione sarebbe necessaria sempre per ogni politica e per tutte le fasi però ci sono dei casi in cui anche qui non ci vogliono scienziati perché alcuni a linee di investimento sono evidentemente il contesto non me lo consentirebbe di usare la parola spanato ma è spanato ci sono alcune cose che veramente non si capisce non sono come direbbe che Cozzalone capibili da un certo punto di vista faccio degli esempi così come diceva qualcuno con l'esempio non mi si capisce prendiamo la linea orientamento noi abbiamo destinato abbiamo a disposizione 250 milioni di euro sull'orientamento una cifra incredibile mai vista mai vista come hanno scelto guardo la dottoressa come abbiamo scelto di farlo li distribuiamo alle università le università quindi dovranno fare delle iniziative di orientamento nelle scuole in alcune regioni si sono coordinate con l'USR in altre regioni non si sono coordinate con l'USR in altre regioni ancora l'USR non lo sapeva ok accanto all'orientamento quindi regia mur esecutivo c'era anche una cosiddetta riforma un'altra iniziativa del ministero dell'istruzione che doveva fare le linee guida sull'orientamento e ha fatto entro la data perché era facile e prevedeva prevede una serie prevede il fatto che l'orientamento diventi ordinamento la supersintesi ovviamente c'era anche l'immancabile piattaforma perché ormai volete che non ci fosse una piattaforma nuova che possa risolvere e quindi il ministero dell'istruzione prima a quei tempi era secondo piano di Trastevere 76 il ministero dell'università piano terreno ho rialzato non si erano evidentemente parlati non si erano raccordati qualcuno dice no ma abbiamo mandato un'email qualcun altro dice no non l'ho ricevuta quindi cercate nello spam abbiamo sbagliato a che digitare perché dico questo perché non si capiva nemmeno se la linea di investimento del ministero dell'università integrasse l'ordinamento del ministero dell'istruzione e quindi c'è stato per un momento il dubbio che l'ordinamento dice 30 ore l'anno per dalla secondaria di primo grado fino a la linea di investimento mur dice 15 ore di intervento adesso ma non dicevano se 15 integrava 30 quindi per un certo momento non si capiva se era 30 più 15 o comunque 30 e poi soprattutto non si capisce visto che c'è questa nuova piattaforma almeno prendiamo gli esiti dell'investimento mur e chiediamo di dire qualcosa mettere qualche dato da qualche altra parte in questa piattaforma almeno la popoliamo no altrimenti avremo una bella piattaforma vuota ecco problemi di comunicazione altro problema l'investimento PNRR mur viene costruito con la stessa logica di un investimento di un programma di spesa quello della programmazione ordinaria cosa traduco significa che viene preso come unità come 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 iniziativa il codice fiscale vuol dire che il giovane che partecipa viene rendi contato con il codice fiscale e l'orientamento può essere fatto terzo anno quarto anno quinto anno ma solo una volta ora io non voglio ripetere battute perché però è stata efficace a Verona quando abbiamo fatto un evento INAP su questo tema io sto vivendo proprio il momento dell'orientamento di mia figlia e ho raccontato che al terzo liceo voleva fare la principessa al quarto liceo voleva fare l'influencer adesso forse anzi ieri ha fatto le prove di medicina ok ora se io faccio l'orientamento al terzo anno ma perché non dovrei poterlo fare al quarto al quinto e quindi 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 e tra l'altro dei 250 milioni sono stati ripartiti ancora 50 che ancora non sono stati nemmeno spesi quindi scusate ho finito quindi voglio dire era un esempio per dire che la valutazione no sono già al contrario sono già valutabili e quindi io credo che iniziative come queste per portare l'attenzione del decisore ma anche di tutti dell'opinione pubblica alcuni aspetti secondo me è opportuno e anche necessario quindi ti ringrazio scusami se sono andato lungo ma grazie grazie perché hai portato un punto di vista operativo ti ringrazio moltissimo puoi restare ancora un po' con noi grazie mille allora chiederei ad Alim Pennisi Ministero dell'Economia e delle Finanze direttore generale unità di missione Next Generation EU Sì grazie soprattutto voi amici del live che trovate momenti e spazi per riflessioni importanti quelli sulla diciamo valutazione quindi io credo che sia sempre molto apprezzabile la possibilità di avere un confronto e soprattutto che questa riflessione diciamo continui nel tempo oggi è il PNRR ma diciamo la spesa pubblica l'attività pubblica esiste anche a prescindere dal PNRR e la conoscenza che si può sviluppare con la valutazione per prendere decisioni pubbliche migliori c'è diciamo un po' in ogni stagione quindi è importante diciamo nutrirla so che il tempo è limitato anche se devo dire che da tutto quello che ho sentito i temi c'è un tema qui di pubblica amministrazione che emerge da tutti i gustosissimi aneddoti che ci avete dato che diciamo propongono delle riflessioni un tema molto interessante questo cosa vuol dire valutare la capacità della pubblica amministrazione è un tema a sé valutativo secondo me molto molto serio soprattutto per un paese come il nostro soprattutto un paese dove appunto non è il PNRR che scopriamo che non si sa programmare scopriamo che non esistono i progetti scopriamo che ci sono problemi di capacità amministrativa è uno di quei grandi problemi strutturali del nostro paese anche di diversi paesi che a fronte di una modernizzazione dei mezzi e di un cambiamento dell'economia della società si deve interrogare su che cosa vuol dire fare servizio pubblico no? cioè perché noi diciamo questo se posso dire allora sarò l'unica a dirlo esplicitamente io qualche piccola critica al documento lo farò e voglio però parlare di questo documento e della valutazione non di tutti questi altri temi che secondo me sono interessantissimi varrebbero perché vedo che c'è tanta voglia di parlarne penso che anche e mi ci metto diciamo come prima essendo poi alla fine anch'io un burocrate frequentando quindi dalla mattina alla sera tutti questi gustosi aneddoti di ciò che succede nelle amministrazioni pubbliche e penso che ci sia anche una fase in cui chi si trova investito di questo ruolo ha un po' una frustrazione e si interroga su se stesso quindi forse sarebbe bello che si aprisse questo lo invito a live come si aprisse proprio un tema che cosa vuol dire valutare la PA non la performance dei dirigenti questi temi che diciamo frequentatissimi già visti 200 milioni di volte no? perché secondo me c'è voglia di parlare di questo e allora magari impariamo a parlarne in una maniera strutturata per estrarne poi appunto anche magari no? delle linee d'azione della conoscenza dei confronti partecipati diciamo utili quindi scusatemi ma veramente ho sentito questa è la cosa che più ho sentito oggi frequentando diciamo questo spazio questa opportunità tornerò invece a cercare di parlare di valutazione PNRR di questo documento perché penso che l'iniziativa di un'associazione comunale del live di cercare di tirar giù una serie di come dire sia richieste diciamo a tutta una serie di interrogatori istituzionali sia di riflessioni su qual è il proprio ruolo che cosa può fare cosa potrebbe fare in condizioni diverse cosa può fare nonostante le condizioni perché insomma grazie a Dio la valutazione è uno degli esercizi più democratici che esista al mondo non è che servono per forza altri per farla no? Cioè esiste un mondo intero di valutatori che non si confrontano necessariamente o non sono necessariamente legati a quello che gli si può dare i dati sono un tema importante soprattutto perché la capacità di utilizzare in maniera strutturata sistematica dati anche con le tecniche statistiche disponibili la quantità di dati disponibili ci può ci porta un'accelerazione delle nostre capacità di conoscenza di estrarre conoscenza ma la conoscenza si estrae con tanti processi e si estrae anche a prescindere dalla collaborazione degli attori istituzionali quindi secondo me è importante che live e chi diciamo lavora in questo contesto se questa mission ce l'ha diciamo si interroga anche su che ruolo può avere indipendentemente dalle richieste che può porre che è una cosa che forse vede un po' mancante diciamo in questo documento però cercherei di dire scusatemi che già appunto sto andando su altri temi ancora anch'io quindi sto cercando adesso di rifocalizzare il tema di quello che dovrebbe essere questa tavola ordo tonda perlomeno da come me l'avete proposta e da come è in queste diciamo carte una cosa che nel dibattito pubblico è incredibile è quanto abbia tenuto l'attenzione il PNRR sono due anni che parliamo tutti i giorni solo di questo un dibattito pubblico che peraltro è fatto prevalentemente di giornalismo che sono diventati nuovi valutatori adesso appunto ci facciamo raccontare in qualche modo c'è anche questo che secondo me è tutto un problema da affrontare è incredibile non c'è nessuna altra politica pubblica a mia conoscenza diciamo nella storia perlomeno della mia vita che abbia avuto così tanta attenzione un'attenzione a volte secondo me diciamo anche come dire spiazzante perché ha introdotto nella visione nella capacità di interrogarsi su che cosa è questo PNRR una marea di rumore a mio diciamo modesto avviso e una difficoltà diciamo di vedere delle cose perché la lente con cui si guarda il PNRR in ogni dibattito e questo incluso è la lente delle cose che noi già conosciamo gran parte delle cose che vedo riflesse in questo documento AIV molte delle quali io condivido ma sono il prodotto di la nostra esperienza di valutatori di amministrazioni pubblici degli ultimi 15 anni sono esattamente le cose che diciamo da 15 anni non c'è niente di nuovo quindi non ci siamo no questo è un altro discorso mi scusi no questo diciamo questo per carità ma non c'è una riflessione una lente diciamo nuova e secondo me questo oggi come oggi a due anni da primi nostri dibattiti invece forse è una cosa che dobbiamo cercare di fare io mi ci metto per prima non faccio parte di questo stesso mondo non è che mi metto in una situazione in opposizione se dirò delle cose e sottolineandolo che le dico diciamo in maniera provocatoria è per aiutare con il dibattito critico a portare tutti noi a fare diciamo delle nuove diciamo riflessioni il PNRR stranamente una cosa che forse non è il PNRR è stato raccontato malissimo innanzitutto dai governi vari ormai che l'avrebbero dovuto diciamo raccontare questo diciamo evidente nel senso che non hanno saputo dare una narrazione del PNRR c'è una narrazione che proviene da tanti da tutto questo dibattito pubblico che c'è intorno adesso una cosa che ancora fa fatica ad essere detta chiaramente e però orienta poi come ci poniamo come valutatori rispetto al PNRR e che guardiamo al PNRR come un piano diciamo a sé il PNRR è una grande finanziaria non capisco perché ancora perché ancora questa cosa non è come dire e non è che allora è giusto è sbagliato doveva essere così non doveva essere così questo ce lo possiamo pure porre il PNRR è stato fatto sia nel metodo ma anche diciamo un po' nell'intento come una grandissima legge di bilancio quindi come una grandissima legge di bilancio dentro c'è tutto ci sono delle cose che sono lo specchio e il diciamo neanche il complemento la politica ordinaria di investimento tant'è che addirittura abbiamo circa 25 miliardi che sono due sono coperture finanziarie a due linee di investimento di incentivi per le imprese che già esistevano e che fanno parte di cose molto classiche di cosa si fa quando si interviene diciamo a favore diciamo delle imprese per uno scopo sono per esempio transizione 4.0 cose di questo tipo politiche estremamente tradizionali che non hanno nulla di innovativo e poi ci sono all'interno del PNRR oltre a ripeto a cose di politica diciamo di investimento ordinaria dei nostri tempi della politica nazionale ci sono poi anche una serie di interventi spesso più piccoli dal punto di vista finanziario estremamente innovativi che fanno parte di quelle cose che generalmente fanno fatica a trovare collocazione appunto nell'ordinaria programmazione economica e che magari grazie a un'iniziativa come questa di una maggiore disponibilità sono entrate così come a volte entrano anche in una finanziaria che improvvisamente c'è una piccola cosa diciamo innovativa nel mare magnum della vera programmazione economica che è stata fatta macro così come è stato diciamo fatto il PNRR ma questa cosa che dico non è tanto per sottolineare tante cose che sono emerse anche da precedenti spunti che riguarda il metodo con cui è stato costruito il PNRR è stato costruito come si costruisce una finanziaria sostanzialmente ma riguarda il maude di guardarlo perché perché appunto qui se noi ci poniamo il problema di valutare per esempio alcune linee di investimento del PNRR non ha senso valutarle se non sappiamo l'altro pezzo che si sta facendo con i fondi ordinari ci sono troppe politiche che sono dentro il PNRR che sono di fatto cofinanziate e quindi diciamo il fatto che siano la copertura finanziaria è trovata nel PNRR piuttosto che nel bilancio nazionale o noi crediamo che il colore dell'euro il portafoglio può determinare un diverso esito della politica ma è la stessa cioè i crediti d'imposta transizione 4.0 sono gli stessi quelli che rendiconteremo nel PNRR e quelli che saranno a valere sul nostro bilancio nazionale non è che c'è una differenza nel modo di condurla quella politica è esattamente la stessa soltanto che un pezzo dei soldi li troviamo nel PNRR per non parlare del super bonus la più grande politica di investimento sul patrimonio immobiliare privato credo mai esistita su cui potremmo parlare ognuno di noi ha opinioni c'è per fortuna anche qualche valutazione non soltanto le nostre opinioni o i nostri aneddoti no? ok a aiutarci diciamo a capirlo meglio indubbiamente una delle cose più grosse che abbiamo mai visto un pezzo sarà il PNRR e un pezzo sarà il PNRR ma non è che fa differenza non è che la progettualità nel PNRR è una progettualità diversa il fatto che qualcuno capiterà nel PNRR pagato diciamo così si può dire dal PNRR piuttosto che dai fondi nazionali non cambia solamente nulla non lo sapremo neanche fino all'ultimo perché non è rilevante quello che è rilevante per esempio per il PNRR è quanti progetti e metri quadri poniamo come risultato per l'Europa ma questo è totalmente sganciato dalla spesa questo è un altro ecco allora quindi per me ci sono due cose noi guardiamo il PNRR come guardiamo un oggetto più simile a quello che sono i fondi strutturali europei perché perché l'esperienza di questo paese è in dubbio è stata fatta le ossa della valutazione sono state fatte grazie a quel tipo di esperienza quindi tutto lo leggiamo in chiave fondi strutturali qui siamo di fronte invece alla politica ordinaria dove invece dibattito sulla valutazione della politica ordinaria è scartississimo nel nostro paese in generale e quindi diciamo non ci dobbiamo stupire che sia scarso sul PNRR che è la politica ordinaria ok primo elemento secondo elemento non guardiamo invece il carattere innovativo che è il metodo insito al PNRR per cui qui non sono soldi a riborso noi potremmo conseguire tutti gli obiettivi e spendere forse anche fino al 2028 perché l'importante è aver conseguito gli obiettivi e non quant'hai speso spenderemo in alcuni casi molto di più di quello che è stato preventivato nel PNRR in altri molti di meno questo non avrà alcuna importanza per la Commissione Europea no ha importanza ha implicazioni per appunto altre tipologie di valutazioni ma solo se noi capiamo che il PNRR è dentro la politica nazionale se no non queste implicazioni secondo me rischiamo di non vederle se lo trattiamo diciamo come a sé no quindi questo diciamo secondo me è fondamentale interrogarsi su come lo vogliamo guardare questo PNRR e che è difficile che sia un oggetto a sé di nuovo elemento invece nuovo del PNRR che non viene quindi considerato e quindi non emerge per esempio perché siamo abituati no ecco e che il PNRR ha una parte importante di riforme strutturali che dovrebbero quelle agire in una maniera sistemica su cambiare grossi nodi e comportamenti del paese sui quali c'è stata una totale assenza di dibattito pubblico ma no perché mancano i dati scusatemi noi abbiamo fatto una riforma della giustizia io diciamo parliamo di PNRR tutte le mattine su tutti i giornali sulla riforma della giustizia francamente avrò visto due articoli non c'è stato un dibattito riforma dei contratti pubblici forse qualcosina in più poco pochissimo pochissimo riforma della pubblica amministrazione quel tema appassionante diciamo di qui sopra ma c'è stata una discussione io non voglio neanche parlare del mondo della partecipazione che secondo me è un mondo ovviamente che può avere delle interrelazioni con la valutazione ma di nuovo apriamo troppi fronti parliamo solo della valutazione ma c'è stata una valutazione exante di queste riforme ma qualcuno l'ha letta ma c'è stato utilizzato un metodo allora diciamo io mi aspetterei che ci si eserciti anche sul problema delle riforme perché qui il problema non è solo i dati del sistema di monitoraggio per carità che ci siano dei problemi sulla partecipazione che ci siano dei problemi sulla trasparenza che ci siano degli orientamenti e delle incertezze che poi nel cambiamento addirittura delle governance probabilmente rischia lo vediamo diciamo noi stessi che ci siamo dentro no le difficoltà no questo è in dubbio ed è giusto che queste istanze vengono diciamo quindi io queste le condivido tutte diciamo ma le do anche un po' per scontate perché è la roba che conosciamo questa è quella che diciamo diciamo da 15 anni in qualche caso avevamo fatto dei grandi progressi in alcuni casi nelle politiche dei fondi strutturali in particolare sulla partita dei dati progressi su cui c'è stato un investimento decennale non sono delle cose che il giorno sono venute diciamo così si fa molta più difficoltà in questo contesto è vero altro tema che meriterebbe diciamo un suo solo sui dati diciamo e quindi ed è una cosa importantissima i dati anche qui non sono solo quelli di monitoraggio sapere quali sono i progetti dove no ma sono i dati ripeto fai una riforma della PA sono i dati sulla PA fai una riforma della giustizia sono i dati capillari sulla giustizia che non entreranno mai nel sistema di monitoraggio perché non sono oggetto di rendicontazione di spesa all'interno di questo meccanismo PNRR sono all'interno di un meccanismo di rendicontazione della spesa che è sul bilancio ordinario e che in genere non viene osservato no e che comunque è anche difficile osservare perché qui la nostra attenzione di nuovo noi diciamo mi dispiace dirlo ma siamo molto molto collalente di quello che abbiamo visto negli ultimi anni grazie ai fondi strutturali che sono stati molto criticati per la loro forse non sufficiente impatto rispetto a quello auspicato sull'economia in particolare del mezzogiorno e sui divari ma che bisogna dire forse avevano dal punto di vista del metodo un po' grazie alle richieste europee un po' grazie a quello che questo paese seppur in un contesto molto limitato è riuscito a costruire in termini di competenze di metodologie no? è stata quella un'esperienza tutto sommato positiva con cui noi ci misuriamo ma non è certo quello che è l'ordinario della conduzione diciamo come dire degli affari pubblici mettiamolo mettiamolo così quindi diciamo secondo me su questo veramente bisogna fare qualche diciamo riflessione in più per capire con che cosa ci confrontiamo anche lì il PNRR cioè parliamo tanto di decentramento della valutazione ma questo perché abbiamo tutti il sentimento e io lo condivido ripeto sono proprio la prima diciamo e non credo che lo devo diciamo dimostrare a nessuno per diciamo tutto quello che ho fatto in questi anni su questi temi no? Decentramento della valutazione e partecipazione a livello territoriale e lo sentiamo ancora più necessario dover dire questa cosa oggi proprio perché sappiamo che a differenza dei fondi strutturali dove la programmazione seppur debole seppur incapace amministrativamente eccetera ha un suo processo codificato e ha un accordo di partenariato e quindi un qualche tipo di confronto c'è di sicuro e non solo è raccontato per forza fa parte del modo in cui si fanno quei documenti è un obbligo in qualche modo doverlo fare poi uno può fare bene male ci sono state varie stagioni il PNRR questa cosa non l'ha avuta per niente e quindi è chiaro che noi abbiamo questo sentimento di dire ma è importante bisogna recuperare questo pezzo e io ripeto sono la prima a dirlo però a me se mi metto diciamo quello che mi stupisce di più è che qui non c'è nessuna funzione centrale di valutazione questa mi sembra la questione diciamo un po' più sorprendente soprattutto di fronte a un PNRR la cui differenza rispetto al passato è che non è solo un piano di investimenti ma un piano di riforme ma come si può abdicare ad avere una valutazione un compito di valutazione a livello centrale su dei temi di questo tipo ci dovremmo chiedere anche ma un confronto col Parlamento che dovrebbe essere diciamo un interlocutore privilegiato interessato a questi diciamo aspetti dov'è come fare a crearlo no? di nuovo nella nostra esperienza dei fondi strutturali il confronto siamo riusciti a crearlo con tanti amministratori locali o le regioni che hanno un ruolo diciamo no? principe no? ma la nostra interlocuzione dico nostra come valutatori col Parlamento dove sta? quella secondo me sta sotto zero in questa epoca e invece questa è una cosa secondo me importantissima e quindi diciamo ecco cercando di dire diciamo tre cose uno secondo me dobbiamo aprirci ad altre lenti per vedere il PNRR e quindi per diciamo decidere come ci si confronta guardando il PNRR un po' più per quello che forse è rispetto a quello l'idea che abbiamo che è tarata dal fatto che siccome sono fondi europei i fondi europei che conosciamo sono i fondi strutturali e quindi prendiamo tutta quella filiera lì questa è politica ordinaria non è un oggetto a sé se noi valuteremo transizione 4.0 non ha senso valutare quello che sta nel PNRR devi valutarla tutta la politica non c'ha nessun senso lo stesso lo potrei dire per tantissime altre cose ovviamente ci sono sinergie con i fondi strutturali perché i fondi strutturali per troppo tempo e anche in questa stagione invece di essere diciamo totalmente addizionali fanno supplenza alla politica ordinaria e quindi chiaramente ci sono dei temi che vengono diciamo attraversati allo stesso modo ci sono non soltanto territori ma di nuovo politiche che verranno finanziate un po' nel PNRR un po' nei fondi strutturali adesso indipendentemente dalle riprogrammazioni voi sapete anche lì fondi strutturali non è che è facile continuare soltanto a dire che uno sposta non sposta anche se vorrei ricordare nuovamente che quando uno sta parlando ecco scusate questo è forse proprio la cosa che secondo me va centrata meglio quando parliamo delle politiche pubbliche non parliamo dei fondi che finanziano queste politiche a meno che non siamo interessati al fatto che un determinato fondo ha creato determinate regole e allora ci interroghiamo se quelle regole rendono più efficace o meno per esempio l'azione amministrativa questo sì che è una domanda no? di policy cioè se le regole hanno un indotto ma altrimenti quale euro paga cosa è di scarsissimo interesse per capire la politica pubblica o per valutarla e il PNRR in questo è particolarmente come dire meno interessante non so anche perché ripeto i soldi che noi utilizziamo o che saranno necessari per fare il PNRR in qualche caso sarà molto di più di quello che sarà nel sistema di monitoraggio molto di meno no? perché appunto il programma funziona secondo altre regole e perché questa è una politica ordinaria e l'altro tema dati i dati sono diciamo più che necessari sono un'opportunità straordinaria dato la capacità tecnologica dei sistemi di informazione di oggi che ci fa fare diciamo a costo molto minore grandissimi progressi di conoscenza se li utilizziamo e non bastano quelli del monitoraggio su questo una decisa azione di continua pressione affinché diciamo vengono messi a disposizione secondo me è necessaria questo è utile farlo adesso finalmente diciamo il mio ministero io stessa diciamo che vi partecipo ha iniziato a mettere dei dati a disposizione sono dei dati che sono fragili se uno non capisce una politica pubblica perché sono dati che provengono da un sistema gestionale che riguarda i pagamenti e che ripeto dopo domani mattina quando il pagamento verrà fatto su un altro fondo quel progetto transiterà in un'altra base di monitoraggio quindi bisogna anche diciamo capirlo questo vuol dire appunto avere una visione sulla politica pubblica e non soltanto sul fondo diciamo specifico e questo diciamo secondo me è molto importante ed è più importante rispetto a quello che abbiamo appreso nella lettura dei dati dei fondi strutturali c'è una questione di dati granulari che riguarda tutto il resto ripeto l'istruzione ma il grande peccato del PNRR penso per esempio all'orientamento ma penso alla dispersione scolastica e non aver utilizzato il patrimonio di dati esistenti per mirare quegli interventi questo diciamo è la cosa che è lampante dell'opportunità che abbiamo diciamo secondo me mancato non c'è stata quella capacità amministrativa non c'è stata quel coordinamento che è una questione legato forse anche ai modelli di governance che hanno non c'è stata cultura perché c'è un aspetto ancora culturale molto radicato sui dati nelle pubbliche amministrazioni che i primi a doverli utilizzare di più ancora prima dei valutatori sono le amministrazioni stesse fanno diciamo ancora grande fatica e quindi su questo c'è un problema di professionalità c'è un problema di cultura diciamo amministrativa c'è un problema di dibattito pubblico c'è un problema di dibattito parlamentare che altrettanto scarso è nella capacità di utilizzo dei dati e molto arroccato è in una liturgia delle cose che già sa che non sa nel senso come metodo che conosce che no che non c'è niente non è che è bene o male adesso questo non è una questione di merito ognuna di questi diciamo linguaggi e capacità ha dei pro no anche che possono essere valorizzati è però quella cosa che per me è proprio diciamo contro il metodo scientifico nel senso siamo tutti a guardare le cose con le lenti di quello che già sappiamo qui se vogliamo essere valutatori dobbiamo guardare il mondo con dobbiamo aprirci a considerare le cose che non sappiamo no a quello che sappiamo già questo diciamo secondo me è un po' una cosa su cui dovremmo esercitarci di più ed è questa l'occasione terzo tema istituzionalizzazione della valutazione questo è un tema secondo me importantissimo che voi un po' mettete in questo documento ma a volte viene un po' confuso forse nella maniera in cui è presentato con quello della partecipazione l'istituzionalizzazione della valutazione che nel PNRR non c'è e non mi pari che nessuna neanche nuova governance abbia diciamo dato un elemento diciamo su questo è importante perché crea un contesto in cui diciamo siamo sicuri che alcune cose vengono fatte a prescindere da questo ripeto i valutatori hanno questa diciamo fortuna che siccome sono committed a quella roba come Ulisse a quella della conoscenza la possono fare anche un po' a prescindere dalla collaborazione dei governi e questo secondo me è una bellissima notizia in realtà e dovremmo ricordarcelo forse un po' più spesso grazie 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 mille sì sì esatto diciamo che comunque la dottoressa Pennisi era stata invitata con la particolare cura di sapere che saremmo stati criticati quindi insomma siamo molto eravamo disponibili a questo percorso anche valutati anche perché insomma conosciamo quanto la dottoressa Pennisi è diventato un mantra il fatto che questo PNR in realtà è una finanziaria o comunque è stato costruito in questo modo quindi diciamo ci ha spianato il piano ce l'ha spanato ecco per utilizzare un attimo però sicuramente ci dà degli stimoli molto interessanti e su questo penso anche che osservare due paesi che sono diciamo Francia e Spagna insomma che hanno in realtà in gran parte istituzionalizzato appunto la valutazione dall'altra parte in realtà per esempio in Francia valutano esclusivamente quelle parti che vengono considerate innovative all'interno dei due milioni di cui vi parlavo precedentemente forse effettivamente bisogna guardare a queste esperienze e provare a ripensare complessivamente anche a quanto abbiamo scritto pur tenendo dentro ciò che tutti condividiamo quindi lascio la parola a Gabriele Tomei che proverà a tirare le fila di questa interessantissima tavola rotonda veramente si sono aperti tra l'altro mi sento di accogliere anche come dire la proposta di Alin di riflettere sulla pubblica amministrazione sulla valutazione della pubblica amministrazione perché è vero che sono emerse moltissime cose interessanti grazie Gabriele proviamo a chiudere a dare un rilancio rispetto a questo quindi procederò veramente per punti in questo ruolo in grado di provare a tenere insieme i tantissimi stimoli arrivati allora il primo è che con queste iniziative e con le iniziative che abbiamo fatto all'interno di questo percorso AIV rischia davvero di trovarsi ad occupare uno spazio strategico uno spazio che mancava nel paese per rilanciare una azione di advocacy importante e di diciamo coalizione di catalisi di coalizione in qualche modo diciamo gli interlocutori che in questi anni hanno diciamo interagito con noi in questo percorso e di cui stamattina è stato un eccellente esempio sono tutti di fatto allineati rispetto alla possibilità di costruire un'alleanza o di rafforzare l'alleanza che già esiste in una sorta di diciamo responsabilità congiunta per promuovere o rilanciare la valutazione del nostro paese a partire dall'opportunità del PNRR ecco questo è il secondo punto è vero il PNRR è una politica diciamo ordinaria con fondi straordinari si inserisce nei rivoli della diciamo dei progetti che stavano nei cassetti e nelle politiche ordinarie con alcuni elementi di innovazione però rimane un'occasione anche per l'enfasi che ha avuto allora rispetto a questo noi questa coalizione diciamo dei responsabili anche se il tema diciamo questo tipo di coalizioni appartengono ad altri scenari purtroppo insomma nel nostro caso ha tutt'altro significato però può davvero aiutare a rilanciare il senso e il consenso per una valutazione delle policy diciamo a tutto tondo non strettamente limitate a interventi puntuali a dettagli ma con uno sguardo generale che ovviamente però non perde di vista il fatto che le policy sono nel nostro paese quelle attivate e rilanciate con il PNRR sono esito di programmazioni multifondo multilivello multiattore e questa multi questa enfasi sul multi ovviamente diventa una sfida dal punto di vista dei meccanismi di gestione della valutazione dal punto di vista degli delle strumentazioni o delle modalità anche metodologiche con cui guardare questa attività però questo indubbiamente è uno stimolo che oggi è presente che noi dobbiamo rilanciare per questo appunto AIV procederà a raffinare questo documento è circolato anche tra i soci e le socie quindi avremo dei mesi di tempo per discutere nei gruppi tematici all'interno di ulteriori iniziative che AIV farà perché l'obiettivo è arrivare al congresso di settembre con un documento da poter riproporre in questo caso all'insieme dei soggetti che hanno con noi accompagnato questo percorso per una sottoscrizione congiunta e una sua rilancio pubblico quali potrebbero essere le piste di sviluppo che dentro il documento vengono ulteriormente enfatizzate che oggi sono state così brillantemente e con efficacia sottolineate io ne ricordo cinque e queste diciamo riprendo poi sicuramente ce ne sono altre che mi sono sfuggite ma insomma siamo tanti fortunatamente sia qua in presente siamo tante teste che ci possiamo tornare sopra tornare a riflettere però queste cinque le voglio qui menzionare il primo il tema dei dati non solo del dato ovviamente specifico del PNRR che comunque come ha ribadito più volte Alvino è un punto di partenza imprescindibile ma anche il dato accodato cioè intorno a questi interventi esistono dati dentro gli strumenti di monitoraggio della regione dello Stato della spesa ma ci sono anche dati legati ad altre programmazioni e dati presenti nel sistema statistico nazionale che questi accodamenti sarebbero sicuramente importanti se fossero disponibili e diciamo di uso anche disponibili all'uso secondo punto sicuramente dobbiamo la valutazione dovrà preoccuparsi e sviluppare strategie di valutazione per settore e per missione e su questo abbiamo un patrimonio di agenzie e di strutture già organizzate istituzionalmente organizzate nel paese per fare questo che potrebbero avere facilmente diciamo una spinta da parte ovviamente se le autorità di governo volessero a inserire tra i propri programmi di valutazione questi compiti e queste funzioni ma parallelamente potrebbe esserci una rilancio è quasi una liberalizzazione di attività di ricerca e di valutazione per soggetti più diversi mi viene in mente mentre ascoltavo questa mattina come in un contesto diverso che è il livello europeo ovviamente quindi dei 27 paesi il programma Horizon funziona così cioè c'è un accantonamento di fondi che serve per attività di riflessione generale sul programma allora perché nel nostro paese non si possa pensare ad un accantonamento magari con altri fondi però per dare un impulso alle università ai soggetti privati alle agenzie a consorsi di svolgere attività di ricerca anche di ricerca valutativa su alcuni settori e sicuramente un campo importante è la valutazione delle diciamo delle messe a terra a livello locale di queste policy questo è un tema centrale tra l'altro abbiamo sentito più volte oggi echeggiare la mancanza della regione l'indebolimento del livello programmatorio regionale spesso la missione 5 e la missione 6 arriverà dal livello governativo centrale ministeriale arriverà agli ambiti territoriali sociali in qualche modo spingendo attività di coprogettazione ma il ruolo e lo sguardo regionale che in altri settori è centrale per la programmazione e per la valutazione rischia di essere indebolito quindi il livello locale deve tornare ad essere compreso osservato è anche potenziato proprio nelle sue competenze valutative altro punto che è stato segnalato è l'importanza di una valutazione che ovviamente da una parte guarda gli effetti ma dall'altra guarda i processi di implementazione e guarda anche i modelli organizzativi che diciamo stanno da una parte accompagnando l'implementazione ma dall'altra si stanno trasformando insieme all'implementazione questo credo che sia una dimensione strategica molto importante per il nostro paese e di cui non possiamo perdere questa occasione perché appunto si stanno innovando professionalità contratti di lavoro formule di reclutamento modelli anche di gestione interorganizzativa probabilmente dentro i processi che in questi giorni in questi mesi sono attivi si stanno recuperando delle funzioni che un tempo erano quelle delle province per esempio i territori o comuni aggregati che devono trovare organismi pubblici o semipubblici per gestire la progettazione e poi anche la rendicontazione questi processi andranno analizzati perché probabilmente saranno fondamentali per il futuro del paese ultimo punto l'istituzionalizzazione della valutazione l'ultimo accenno che qua ha portato all'impennisi credo che sia anche questo un tema sostanziale importante su cui l'associazione italiana di valutazione insiste da tempo attraverso una riflessione sulla professionalizzazione dei soggetti che fanno valutazione ma anche del supporto alle agenzie che fanno valutazione e anche a uno stimolo che sempre ha avuto nei confronti delle università ad esempio sulla diciamo la spinta a svolgere un'attività di formazione specifica alla valutazione oggi non abbiamo dei corsi di laurea specifici non abbiamo ricordo che proprio all'impennisi a Bari conferenza di Espanet sottolineava questo tema mi aveva molto colpito non esistono programmi dottorali o esistevano un tempo Mauro Palumbo a Genova aveva aveva un un percorso dottorale le università diciamo probabilmente dovrebbero anche su questo riflettere su che tipo di capacity building effettuare in questo ripeto e chiudo associazione italiana di valutazione si trova non so se volente se più volente o più nolente diciamo si trova storicamente diciamo in un momento e in un luogo particolarmente delicato e però accolgo volentieri l'esito di questi tre anni di lavoro che di cui devo ringraziare particolarmente Donatella Poliandri che insieme agli altri del direttivo ha diciamo aiutato a coordinare questo percorso e però ci troviamo davvero in mano una potenziale coalizione che può svolgere questo ruolo nel paese e ho l'impressione che se davvero non rilanciamo noi questa cosa sarà vaticoso che qualcun altro lo faccia quindi grazie davvero della partecipazione grazie a tutti grazie ancora ai nostri relatori chiudiamo perché c'è il buffet quindi l'orario d'inizio quindi dell'assemblea per i nostri colleghi soprattutto quelli collegati 15 no 13 e 20 13 e 20 13 e 30 13 e 20 va bene grazie a tutti grazie grazie a tutti